e adesso si poteva pensare di non fare un corso di strategia senza un po' di 5 forze lo facciamo in due modi quindi facciamo due volte il modello del 5 forze per essere sicuri che ce l'abbiate a noia la prima è quella standard vi faccio vedere come è fatto il modello del 5 forze lo sapete meglio di me quindi lo facciamo veloce poi domani vi faccio vedere come si applica quindi prendiamo il modello del 5 forze e stabiliamo quali sono le cose che dovete andare a vedere in termini di variabili per applicarlo al caso Sandland e già iniziano i cazzi come ci siamo detto il modello del 5 forze sapete tutto di lui? sapete chi l'ha inventato? sapete perché l'ha inventato? dove l'avete fatto il modello del 5 forze? lo sapete da quando siete nati che corso l'avete fatto? va bene vi faccio lo spottino del modello del 5 forze ma ve lo farò veloce ma Michael Porter è diciamo è papà della strategia moderna in realtà non ha inventato lui la strategia aziendale la strategia aziendale è stata inventata a inizio secolo è un signore che si chiama George che ha inventato l'analisi SWOT che sicuramente da qualche parte avete incrociato però Porter ha fatto un passaggio rilevante cioè ha inventato il vantaggio competitivo che di per sé è la più grande invenzione di marketing della storia cioè lui è andato da gente che passava il tempo nelle loro aziende per cercare di guadagnare dei soldi a dire ah ma sai che se tu hai il vantaggio competitivo guadagni più soldi se tu non ce l'hai guadagni meno soldi dei tuoi concorrenti quindi tutti volevano sapere cos'era il vantaggio competitivo e lui ha cominciato a spiegarlo l'ha spiegato lo sto ancora spiegando sono passati 40 anni perché Porter è stato particolarmente bravo a fare questo perché lui in realtà nasce nel mezzo di due scuole di pensiero se volete il mondo dei modelli macroeconomia è il terzo piano il quarto piano della nostra facoltà della nostra scuola scusate la macroeconomia è fatta di modelli tipicamente statistici matematici riproduce in piccolo in teoria qualcosa che è una sintesi semplificata di una realtà per cui scegli delle variabili e rebus sextantibus cioè dimenticandomi tutte le altre guardo cosa succede tutto il mondo macroeconomico funziona così vediamo cosa succede se iniettiamo 10 miliardi di euro al mese dentro il sistema economico ci aumenta diminuisce la disoccupazione aumenta il reddito medio si supera il covid bene buttiamo 10 miliardi al mese nel sistema poi dice oh ci siamo dimenticati che forse c'è l'inflazione ups inflazione ah ci siamo dimenticati che forse se acceleriamo troppo poco gli investimenti sul non sostenibile poi il costo di energia sostenibile è più caro per cui tutti quanti pagheremo delle bollette ammazzate sulle orecchie questo 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 quindi rebus sextantibus ha un difetto che ti dice abbastanza bene cosa succede a un set di variabili che hai deciso di osservare ma non non guardi le altre perché modello semplificato della realtà se volete almeno almeno in microeconomia domanda offerta costo variabile prezzo marginale l'avrete fatto signore scuola di francoforti neoclassici un modello se voi andate invece nella scuola di management quella primo e secondo piano si va a casi tutti voi avete fatto il caso Ryanair almeno 20 volte basso costo tutti avrete fatto il caso Zara la logistica tutti avrete fatto il caso Dell la customizzazione del consumatore noi del mondo manageriale viaggiamo a casi guardiamo un caso lo studiamo diciamo a caso e poi per analogia lo appicchiamo ad altri qual è il difetto? beh che l'applicazione per analogia è statisticamente poco rilevante cioè se ha funzionato una volta non è detto che funzioni un'altra come se uno va dal medico e dice senti ma io ho questo prendi medicina X dice perché ma l'ho dato a quello prima lo do anche a te Porter è stato il primo a inventare i framework il modello delle cinque forze è un framework non è un modello matematico e non è un caso è un insieme di relazioni dentro a un framework dentro a un modello non matematico a un sistema mentale di ragionamento se volete perché l'ha inventato perché lui stava facendo il dottorato a Boston ad Harvard lato destro del Charles River dove c'è la facoltà di economia politica dove c'è la scuola di governo dove ha studiato Kennedy poi c'è un bellissimo fiume il Charles River congelato per sei mesi all'anno un ponte e dall'altra parte c'è il dorato mondo della business school dove si insegna management palestre migliori stadio di calcio molto fico cibo migliore perché lì ci sono le aziende si guadagna di più donne più belle e tutto migliore e lui poverino era chiuso dall'altra parte a fare analisi statistica a un certo punto come tutti quelli che fanno il dottorato in macroeconomia dicevano io voglio andare dall'altra parte del fiume e va a fare un corso ci sono i corsi liberi va a fare un corso di organizzazione industriale si innamora del suo professore in senso accademico e comincia a collaborare il suo professore a un certo punto lo chiama Reagan non l'attore cioè l'attore che ha fatto il presidente voi non erate anche ancora nati Reagan era uno liberista voleva liberalizzare le tratte aeree per cui dice io voglio liberalizzare le tratte aeree però siccome le compagnie aeree occupano un milione e mezzo di persone negli Stati Uniti gente che vota se faccio una cazzata perde un milione e mezzo di voto i voti vorrei un attimo capire come si liberalizzano le compagnie aeree questo professore si chiama Piper non aveva tanta voglia di lavorare solo lui e dice va bene allora prendo due dottorandi lo faccio e chiama Porter e Porter studiò cosa sarebbe successo alla compagnie aeree liberalizzandole e usò un modello non aveva modelli mentali per farlo perché c'erano solo i casi e non c'erano casi su liberalizzazioni perché le liberalizzazioni le avevano inventate Thatcher e Reagan l'anno prima e quindi si inventa il modello delle cinque forze per spiegare a Reagan cosa sarebbe successo se avesse liberalizzato le compagnie aeree tra l'altro la cosa affascinante è che alla fine della spiegazione nell'ovale della Casa Bianca racconta Porter dice è finita e io gli ho detto guarda che un sacco di gente perde lavoro però un sacco di consumatori potranno viaggiare a meno di un quarto del prezzo di oggi e Reagan disse ma ci sono più dipendenti o più viaggiatori negli Stati Uniti più viaggiatori ok quelli votano quindi se ne potete dell'industria aeronatica che infatti è fallita tutta però rese mobile rese trasportabile il cittadino meglio degli Stati Uniti quindi questo è il modello delle cinque forze non ve lo sto a raccontare vado per differenze vi racconto delle cose che sicuramente sapete ma che è importante che io vi ripeta la prima in un settore il motivo per cui c'è competizione nel settore è che bisogna ottenere un ritorno per pagare il rendimento sul capitale degli azionisti gli azionisti mettono capitale per ottenere un ritorno superiore aggiustato per rischio il WAC quelle balle lì che avrete fatte in finanza se non lo avete fatte me lo dite ve le faccio leggere qualcosa però diciamo tenendo conto del tempo e del rischio per farla facile dell'inflazione però loro vogliono un ritorno se tu dai un ritorno superiore al loro costo hai i soldi se no non ce li hai questa mattina ho fatto una simpatica riunione sapete cos'è Gorillaz io fino a venerdì non lo sapevo sta raccogliendo un miliardo di euro per aumentare il numero di città in cui è presente ho capito più o meno la differenza tra Gorillaz e Just Eat però voi l'avete quindi Amazon Fresh questo l'ho capito che sono cazzi adesso oggi sono sboccato ma funziona cioè arriva in 10 minuti perché qua sì però adesso c'è qua mi hanno detto io ho detto lo provo meno male così resiste la nostra caffetteria perché la gente mette un miliardo di euro dentro Gorillaz perché sapete che la Juventus sta facendo un aumento di capitale eh sono i gobetti qua in stanza 400 milioni se volete investire avete anche vinto il derby cosa peraltro nuova perché non investite un po' di soldi nella vostra stupenda squadra di calcio quindi perché c'è la competizione la vera competizione non è per chi fa il prodotto più fico è per avere i soldi per avere un ritorno superiore per avere i soldi come funziona questa competizione praticamente quando siamo nello stesso settore e poi torneremo eh Giada si chiamava quello che ha chiesto del settore sul concetto di settore però tra poco peraltro no cioè domani ci torneremo però cosa succede che dentro il settore quelli che competono si sbattono per fare delle cose per avere per fare meglio dei concorrenti che cosa fanno? competono sul prezzo fanno battaglie con la pubblicità mettono nuovi prodotti o servono meglio il cliente se voi guardate più o meno alla fine si fanno le quattro cose la cosa più stupida chiaramente è la competizione sul prezzo perché perché quando sei nello stesso settore un'azione fatta da uno dei player dell'arena competitiva genera una reazione di tutti gli altri perché si fa competitive analysis è per capire cosa fanno gli altri perché vuoi capirlo per un piacere accademico di conoscere ma per un cazzo perché devi sapere cosa fanno gli altri anticipare cosa fanno gli altri e farlo tu prima quindi cosa fa un umano quando un concorrente abbassa il prezzo lo abbasso anch'io e si avvia una battaglia dei prezzi storicamente negli ultimi cento anni non è mai successo che ci fosse una battaglia sul prezzo che finisse con il settore better off cioè col settore che guadagnava di più di prima non ci va una scienziata a capirlo eppure se voi uscite di qui è pieno di stronzi che l'unica cosa che sanno fare come decisioni strategiche è abbassare il prezzo questa roba qui è una delle robe che mi urtica l'unico motivo per cui ancora formo queste generazioni di manager è sperare che prima o poi ho addirittura visto una volta un mio studente che ha osato proporre come strategia di abbassare il prezzo ho chiesto al suo capo di licenziarlo con dolore mi spiaceva aveva fatto la tesi con me era bravo e ho detto ragazzi se uno arriva a dire abbassiamo il prezzo vuoi solo più fare una cosa trovargli un altro lavoro aiutarlo a trovare un altro lavoro perché perché quando abbassi il prezzo l'unica cosa che fai è che gli altri lo abbassano e a quel punto lì nella migliore delle ipotesi se tu sei quello che ha il costo più basso sopravvivi perché poi ci sono gli stronzi che abbassano il prezzo e hanno i costi più alti poi falliscono però se sei quello che ha il costo più basso abbassi il prezzo diminuisci i margini quindi ma quello che è certo è che in un settore industriale in un settore anche in un settore ci si guarda gli uni con gli altri e si compete su queste cose qui abbasso il prezzo faccio un po' di pubblicità faccio il brand migliore cerco di fare un prodotto nuovo che gli altri non ci hanno quelle cose lì sono quelle che si possono quanti di voi hanno una challenger bank quelle banche che ci sono solo sul telefono chi è? quale c'hai? N20 altre? hype? hype ok N26 c'è anche hype fate un confronto poi mi dite cosa è meglio io le provo tutte perché Pietro Sella mi usa come testa mi dice tu iscriviti a tutte le cellule che esistono le ho tutte metto 50 euro su ognuno tanto quella roba lì è affascinante peraltro N26 ha battuto hype nel ritorno della carta di credito Pietro sta ancora soffrendo sapete che ci sono ogni tanto delle macchine di controllo agli aeroporti che magnetizzano le carte di credito non so perché soprattutto se voi andate viaggiate in Africa o nell'est Europa ogni tanto capita come se quelli di Putin che controllano anche se hai delle armi nascoste nel e quindi ho smagnetizzato tutte le carte di credito e allora sono andato sul mio mentre ero lì in aeroporto ho detto vabbè cominciamo sull'app di hype mi rimandi la carta di credito poi sono andato su N26 N26 quattro giorni dopo mi è arrivata la mia carta di credito il mio banco i più divertenti sono stati quelli di Intesa San Paolo carini che mi hanno risposto dicendo venga in filiale con la sua carta tagliata ho detto un pezzo di scemo io gli ho scritto guardi torno in Italia fra 18 giorni posso venire sabato ma no però può venire venerdì dalle 13.35 alle 14.28 ho detto beh cazzo puntuali a smollare il venerdì le Ceres & Black sono affascinanti fanno delle cose bellissime io con N26 do le paghette ai miei figli perché c'è il ricorrente sui salvadagnetti ce l'hanno quasi tutte anche iPod hanno un piccolo problema non hanno un pricing cioè non guadagnano sono il più grande driver di distruzione del settore diciamo consumer delle banche sono ste cazzo di Challenger Bank perché siccome non guadagnano e possono permettersi di non guadagnare stanno facendo una battaglia dei prezzi tu apri un conto costa niente io non ho aperto una quarantina nell'ultimo anno ve lo posso dire con chiare non cerca neanche di fotterti come fanno le sane robuste vere rispettabili banche italiane ci apri il conto grazie poi il giorno dopo due euro perché non sai neanche quello niente questa roba qui distrugge l'industria non è più rispettabile avere un conto corrente vendere conti corrente non è più un mestiere rispettabile non si guadagna più quindi quando si compete e questo se volete è la slide di sintesi del corso che cos'è l'analisi competitiva quelle quattro cose lì cioè capire cosa vogliono fare i tuoi concorrenti perché le Challenger Bank vogliono aprire conti gratis perché pensano ci siano delle economie di scala sul numero di correntisti che hai che probabilmente è vero definire quali sono le assunzioni del tuo concorrente perché le Challenger Bank vogliono tanti conti correnti perché suppongono che il passaggio dopo sarà fare qualcos'altro darvi la gestione del risparmio lo ha fatto Oval darvi la possibilità di acquistare frazioni di cryptocurrency è una Challenger Bank che si chiama Vivid ognuna ha una sua ipotesi che dice ma io una volta che ho una base di clienti gli faccio fare delle cose quelle a pagamento comprendere le strategie dei tuoi concorrenti attuali perché Hype si è fusa con i limiti che l'idea era che se tu hai una se l'italiano non è grande non puoi avere più di una Challenger Bank di successo in Italia per cui se il limiti la lancia è un problema allora il limiti dall'altra parte non poteva lanciarla perché c'era già Hype che aveva una grande base clienti e l'aveva andata da sedere ma mettiamoci insieme capire la strategia attuale e poi valutare le capacità dei concorrenti quando voi guarderete il nostro amico di Sunland che non mi ricordo più come si chiama vi chiederete passa l'acqua mi sembra si chiama che fa ridere uno che fa vino una delle cose che dovrete chiedervi è ma come sono diverse le mie competenze rispetto a altri produttori di vini premium ad esempio una delle cose che dovrebbe subito spottare la vostra attenzione e il fatto che passa l'acqua cioè Sunland non vende vende il meno possibile con il sistema di distribuzione il che lo fa rendere diverso perché succede questa cosa qui dovrete chiedervi quali sono le sue capacità e perché alcuni ne lo fanno e altri no poi qui vado veloce perché stava qui la sapete sapete che il modello delle 5 forze è il punto di equilibrio o meglio come posizionarsi rispetto a quelle 5 forze concorrenza interna i compratori i compratori sono i vostri peggiori concorrenti nell'appropriarsi del valore che avete creato cioè i clienti sono belli bravi bisogna curarli avere tutti i loro bisogni essere focalizzati su clienti customer centristi bla 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 verissimo ma alla fine c'è un momento in cui Marta quanto costa il negrone alpino ora devi dire cosa c'è dentro 3,50 sti cazzi 5,50 wow complimenti 5,50 è il drink senza l'aperitivo ah con l'aperitivo allora devono alzare i prezzi però se fai cioè allora mi sembri Marchetti ma il mio gelato è più buono Alberto se è più buono devi costare di più cioè se è più buono deve costare di più quindi 6 se no è uguale agli altri 50 centesimi siete tutti d'accordo che 5,50 è 50 centesimi in più dello standard chi è che spenderebbe 5,50 per il negrone alpino ah e c'è gli ubriaconi si sa dove stanno eh alla fine guarda tutti belli carichi lunedì mattina lì sdraiati a riposare dai che vi faccio scavallare arriviamo al pomeriggio alle 2 si può bere già fatto sti cazzi e nel momento in cui Marta arriva dal negrone alpino qualcuno ha studiato il fatto che ci sarà un trend regionale il consumo che ne so a chilometro zero il fatto che è bello che usare i nostri prodotti il fatto che ci sentiamo più sicuri e più contenti se consumiamo cose della nostra terra si è inventato il negrone alpino e ha detto 5,50 ha studiato i consumatori come Marti che dice guarda che gli faccio quella cosa lì gli piace poi tipicamente il negrone si fa col gin con tutte le robe schifose il gin la vodka robe secchissime noi siamo una regione dove ci sono parecchie dal gene pin poi alcolici molto forti non secchi comunque è un valore se mi piacciono gli alcolici secchi avrebbe inventato adesso non lo so magari l'ha fatto in un altro ma c'è un momento in cui Marta e il barman sono uno contro l'altro perché Marta dice io fino a 6 euro glieli do il barman deve decidere il prezzo allora se dice 6 euro e 10 non lo vende se dice 5,90 lo vende adesso non so sappiamo se è 6 il prezzo la disponibilità a pagare di Marta ma sappiamo che probabilmente non lo sai neanche tu davvero ma ci sarà un momento in cui se lui ti dicesse 6 dici cazzo no prendo una coca cola no prendo il gin da sole mi ubriaco non lo so però c'è un prezzo oltre il quale voi non andate quanto costa il caffè alla caffetteria? 85 ma se costasse un euro davvero non lo prendereste? berreste lo stesso quanto costa la bottiglietta d'acqua? perché costa 50? perché voi non volete fare due piani a piedi e andare su che costa 25 la macchinetta non so quanto costa la macchinetta? 40 quindi 10 centesimi è la willingness to pay di salire e comprare da un'altra parte perché non c'è il distributore che credo non ci sia ancora di acqua al piano terra? c'è no c'è solo quello della bottiglia qua c'è ma qua non viene nessuno solo noi così queste cazze di classe ma al piano terra non c'è il distributore d'acqua c'è solo quello dell'acqua sciolta no a sinistra c'è il caffè come? all'ingressone dopo il cioè tu entri da Corso Unione prima del bar a sinistra secondo me non c'è l'acqua a destra c'è il distributore dell'acqua sciolta ma non c'è la bottiglietta nel grande androne a sinistra c'è il distributore di bottiglietta casualmente sempre rotto avete notato? perché? perché se io avessi la stessa bottiglia 40 o 50 al bar non si venderebbero bottiglie eppure al bar si vendono bottiglie quindi c'è un momento in cui il consumatore e vedete che vi ho fatto adesso oggi niente grandi aziende la nostra caffetteria c'è un momento in cui il consumatore e l'azienda litigano che è sulla disponibilità a pagare quando un cliente dice lo compro questo Negroni alpino ma porca troia se è capo voi avete fatto il vostro mestiere perché avete capito siete riusciti a trovare la sua disponibilità a pagare quando si lamentano del prezzo quelli di marketing hanno fatto un buon lavoro se avete la percezione che costa poco vuol dire che eravate disposti a pagare di più e qualcuno ha sbagliato il prezzo ecco perché i peggiori concorrenti i peggiori nemici dell'industria del settore industriale sono i suoi clienti tant'è che Porter ci dice attenzione che se i clienti sono molto potenti ti rubano il valore che crei poi faremo una lezione sul valore ma alla fine il valore non è altro che la differenza tra quello che paghi e quello che saresti disposto a pagare i fornitori i fornitori sono sapete anche qua potenzialmente uno dei forze perché perché se io fornitore ti aumento il prezzo e tu azienda non riesce a trasferire questo prezzo sui tuoi clienti finali io ti ciuccio via una parte del tuo profitto quindi se la disponibilità a pagare di Marta è 6 e il suo barman fa 5,50 e deve dare 2 euro a quello del GnP non glieli dà 1 euro e se quello del GnP dice ma il mio GnP è più buono per fare il Negroni Alpino adesso paghi 1,50 euro e lui non può arrivare a 6 da Marta con i 50 centesimi se li prende il fornitore questo ad esempio è il motivo per il quale se voi entrate nei bar tanto per continuare con gli esempi delle piccole imprese nei bar c'è il marchio del caffè perché c'è il marchio del caffè perché i produttori di caffè ci tengono un sacco a che voi conosciate qual è l'origine la marca del caffè che bevete al bar primo perché così se a voi piace quel caffè lì quando vanno nel caffè dopo nel bar dopo possono dire guarda che il mio è un caffè preferito secondo perché in alcuni casi lo comprate anche fuori dai bar il player locale più diffuso a Torino è Costa d'Oro sapete Costa d'Oro perché ci sono i mi sembra si chiamino Coffee Lab per far capire ai clienti che loro hanno tutta una serie di competenze sul caffè e fanno sì che quando tu vai al bar quel caffè lì sia veramente Costa d'Oro veramente tostato fresco più buono degli altri se guardate adesso lo fa anche Costa d'Oro ma chi è iniziato forse Illy che mette i non so come si chiamano le tanniche di metallo sopra la invece di versare i chicchi perché a un certo punto si è fatta una ricerca fatta io 7-8 anni fa ho preso un'area geografica e ho guardato quanto caffè di un marchio non vi dico quale veniva venduto in quell'area cioè quanto il marchio producente vendeva di chili di caffè in quell'area poi sono andato ben censito tutti i bar e abbiamo guardato campionando quanti caffè venivano bevuti in quei bar e abbiamo scoperto che mancavano qualche decina di migliaia di chili di chicchi di caffè tra quelli che venivano venduti e quelli che potenzialmente erano consumati allora una parte è normale perché perché la conta si fa per quello che so i grammi su 7 grammi a battuta e i baristi ciurano un po' ne mettono 6 ne mettono un po' di meno lo vedete perché quelli bravi quando danno il colpo lo danno a metà se ve lo fanno tostato e quindi è vero che un 20% lo perdi però è impossibile perderla a metà allora ho cominciato a pedinare i baristi e cosa facevano i baristi? Alla mattina al pomeriggio finite le colazioni se ne andavano alla metro e si compravano tiri di caffè unbranded e lo mischiavano con il gravissimo rischio che io arrivo nel mio bar col mio brand XY che ha speso milioni di pubblicità prendo la tazzina e bevo un caffè che non è quello del brand che c'è lì e per cui poi io ho fatto uno studio riservato per tutti i produttori di caffè glielo ho girato a tutti e tutti hanno cominciato a cercare di tappare questa roba qua mi hanno chiamato anche quelli della metro un po' incazzati perché la quantità di caffè di metro è scesa dell'80% in tutta Italia perché chiaramente non mischiandolo più nessuno andava più a comprarlo pensate quanto è potente quel marchio io vado in Italia adesso voi non è che proprio decidete di cambiare bar però dopo anni che io rompevo i coglioni Giulio Trombetta l'amministratore legato di Costa d'Oro fa pagare il caffè 1,10 se è più buono deve costare di più se no se uno stronzo come gli altri costa 1 euro qui su alcune tipologie di caffè lanciate nuove costano 1,10 adesso anche Sergio Cravero di Lavazza c'è alcune ostature che costano 1,10 perché se è una cosa più buona la disponibilità a pagare di Marta sale quindi deve pagare 1,30 per quel caffè più buono è giusto che tu paghi 1,10 invece che 1 euro per quello normale per cui pagaresti 1,20 ma è chiaro che se il potere è del fornitore tu azienda sei fregata poi ci sono degli esempi che terrorizzano le aziende l'esempio primo è Intel qualcuno di voi ha mai visto un processore Intel dal vero? tu ci hai scritto Intel lì sulla tastiera? prova a staccare non farlo che poi ti appiccichi la mano perché è appiccicato così l'adesivo di Intel? è una tecnologia brevettata da Intel non puoi staccarlo se stacchi l'adesivo Intel ti si appicca la mano eh? stai provando adesso poi sai cosa devi fare io lo faccio con regolarità poi devi passare dell'alcol quindi prendi il tuo Negroni lo passi di ma se tu lo stacchi ti si rimane appiccicata la mano perché tu devi sapere che qui dentro c'è Intel perché devi saperlo? perché la differenza tra il suo HP e il suo Dell è la velocità di calcolo e che cos'è che determina la velocità di calcolo? il fatto che sia Dell o HP no quale microprocessore Intel possiede questo è il motivo per il quale Intel fa soldi a palate HP e Dell sono falliti che noi comproviamo una cosa in base alla performance del componente guardate una macchina un po' di lusso vedete che nelle ruote davanti c'è uno sbrincino un sorrisino rosso con scritto Brembo che è un fornitore eppure Brembo fa Tiraboschi che è l'amministratore delegato da Brembo fa un puttanaio adesso il presidente fa un puttanaio che è ancora bombastare il presidente comunque amministratore delegato fa tantissimi soldi perché perché chi compra quella macchina lì vuole che ci sia Brembo dentro stessa strategia di Intel inside perfetta allineamento tra DNA strategico vogliamo essere il componente del personal computer che ne determina la performance DNA strategico di Intel probabilmente il miglior imprenditore americano del secolo scorso strategia di brand brand identity Intel inside la roba qui ce l'abbiamo impiantata tutti nel cervello e quando compriamo un computer ci chiediamo la prestazione Apple sta ancora correndo dietro perché a un certo punto Intel si è offesa che non usavano i microprocessori Intel e ha detto ah sapete che Apple fa dei computer bellissimi usa sempre il processore di una generazione più vecchia che è vero peraltro per tutta una serie di motivi di integrazione ma questa roba qui aveva come dire un impatto sull'immagine della velocità di processazione è enorme ora quello che succede è che questa roba qui è quello che Porter chiama value system cioè il modello l'insieme l'archetipo che produce qualcosa che serve al consumatore il produttore di GNP il barman che fa il grone alpino il bar che lo distribuisce Marta che lo compra ogni volta che arriva qualcosa per cui un consumatore azienda o impresa ha una certa disponibilità a pagare dietro c'è un sistema che non è la catena del valore che è quella dentro l'azienda è un sistema vedete che infatti queste sono tutte lo vedremo dopo sono tutte catenine del valore ognuno ha la sua l'insieme delle catene del valore di tante aziende che portano qualcosa che serve al consumatore è il sistema del valore a noi che ci frega di quella rossa cos'altro c'è oltre questo sistema cioè questo freccione che porta qualcosa che serve al consumatore per cui il consumatore è disponibile a pagare c'è questa parte qua quella sopra e quella sotto i potenziali entranti quelli che entrano sono coloro che dicono figo in questo settore si guadagna io so fare qualcosa per entrare in questo settore mi metto a farlo esempio più incredibile degli ultimi anni di cui nessuno parla avete presente l'Ira Facebook è quello Facebook lo so che è una roba un po' da vecchio Facebook è quell'azienda un po' datata che possiede Instagram avete presente Instagram è quell'azienda un po' vecchia che possiede Whatsapp voi Whatsapp avete presente Whatsapp quando voi aprite Whatsapp c'è scritto from Facebook o by Facebook non so from Facebook a un certo punto quelli di Facebook che sono bravidi si dicono ma noi abbiamo una grande economia di scala lato offerta cioè abbiamo contatti con tanta gente cosa ci possiamo fare con questo resource questa è la risorsa resource base view facciamo la moneta creano la prima moneta digitale non quelle crypto basate sul cazzo moneta con un sottostante vero moneta quella degli stati quella vera quella con il diritto di signoraggio quella che è dai tempi di Dixon che nessuno ce l'ha più quindi dice c'è un consorzio qualche banchetta Goldman Sachs qualche aziendina Facebook che ha sede in un posto che a tutti ci mette tranquilli la Svizzera che batte una moneta privata basata sulla tecnologia del blockchain che potrà essere usata da qualsiasi utente di Facebook nel mondo 3 miliardi e passa di abitanti quindi più o meno il doppio di quelli che usano il dollaro come funziona? funziona che l'IRA che è questo consorzio mette dei soldi in dollari in euro in one Ginevra che siamo tutti sereni che lì e emette una moneta che ha quel valore come sottostante invece dell'oro di Fornox le monete a Ginevra questa moneta sarà utilizzabile è utilizzabile da tutti sia su Facebook sia altrove e ha una conversione col dollaro con l'euro con tutto quello che volete ma siccome ci sono più utilizzatori di Facebook che utilizzatori di dollari vincerà l'IRA andate su internet c'è tutto esiste ancora esiste lancerà la moneta perché ad un certo punto il governo degli Stati Uniti ha chiamato Facebook e ha detto guarda le due possibilità o vai talmente piano che fai arrivare le grandi banche centrali e avere una moneta loro o noi ti si incula con la ghiaia detto in francese e quindi ha detto sì lo facciamo e adesso lì aspettiamo un attimo quindi se voi andate a vedere sul sito della BIS Bank for International Settlement che dove sta? sempre a Ginevra perché così siamo tutti tranquilli che è l'associazione delle banche mondiali delle banche non le banchette intesa quei poveretti delle banche centrali ha cominciato a fare uno studio 18 mesi fa facciamo la banca digitale facciamo la cryptocurrency e a un certo punto ha detto va bene adesso le banche centrali sono pronte l'euro fra un po' uscirà un euro digitale siamo alla quarta revise eccetera in modo democratico l'abbiamo discusso però un po' poi un giorno si è svegliato Xing ha detto ma in Cina io penso che non sono legali crollato tutto il sistema invece noi siamo stati più carini abbiamo telefonato senza dirlo a tutti a quelli di Facebook e ha detto se lo fai ammazziamo i cinesi che sono un po' più scenografici sapete sapete come Mao teneva sotto controllo i cinesi sapete che sapete che adesso c'è la la common prosperity in Cina cazzo dove cazzo sono i vostri concorrenti sul mondo del lavoro adesso Mr. Xing che è il presidente della Cina ha deciso che la cosa che c'è un po' di sapete che noi abbiamo un problema della non equa distribuzione della ricchezza la solita palla l'1% delle persone possiede il 20% una cazzata pazzesca ma la discuteremo un'altra volta lui ha detto a me piace un po' che ci sono dei cinesi ricchi che degli altri poveri che dicono che sono un po' tristi perché ci sono dei cinesi ricchi quindi adesso prosperità comune cosa facciamo? ci inculiamo i ricchi così e così ha fatto due o tre sono spariti li stanno ancora cercando quello del Milan quello dell'Inter se lo sono presi per l'orecchio sono separati indietro se ti spieghiamo noi come si vendono gli attrodomestici i cinesi sono più diretti anche se sono un miliardo e mezzo se aspetti a fargli cambiare idea a tutti noi invece facciamo la criptovaluta un po' più che cos'è quella roba lì? è un nuovo entrante nel mondo del signoraggio sapete cos'è il signoraggio? la possibilità di battere moneta propria tipica degli stati i re uccidevano conquistavano ammazzavano per il diritto di signora altrimenti che poi sulla moneta c'era la loro immagine come dire prova a metterne un'altra vengo con la spada e ti mozzo la testa Facebook è entrato nel mondo nel business del signoraggio con un po' di diciamo conseguenze ma è sempre vero che chi entra è sempre pericoloso perché o è un kamikaze succede oppure è qualcuno che è entrato con l'idea di fare qualcosa in modo diverso e migliore degli altri quindi il nuovo entrante è un problema di solito e poi ci sono i sostituti i sostituti sono il concetto di sostituto quello che sembra più semplice poi vi fotte alle domande dell'esame cerco di farla facile i sostituti sono prodotti che voi potete sostituire per soddisfare la stessa disponibilità a pagare il negrone il negrone sbagliato il negrone alpino sono sostituti se invece sono cose che soddisfano lo stesso bisogno in modo diverso l'automobile e il treno non sono sostituti sono due settori diversi perché il sistema è diverso naturalmente naturalmente i sostituti tendono a essere in competizione gli uni con gli altri invece i prodotti dello stesso settore tendono a essere in competizione perché io faccio il negrone alpino perché voglio che la gente consumi il negrone alpino invece che il negrone sbagliato o il negrone ma in realtà a me che la gente beva interessa quelli non sono sostituti lavorano per lo stesso bisogno qui c'è stato un esempio durante il lockdown affascinante Burger King che dice comprate da McDonald's cioè i due più acerrimi nemici nel mondo della ristorazione fast food che si sono dati botte da orbi da sempre Burger King che dice l'hamburger di McDonald's è bollito cosa che peraltro ho lavorato a McDonald's è vero l'hamburger di McDonald's non è grigliato è congelato è già precotto passa attraverso una roba che lo bolle lo scalda non è grigliato invece Burger King è grigliato McDonald's dall'altra parte dice ha fatto tutta la cosa dicendo la variabilità della qualità degli ingredienti Burger King fa schifo mazzate tutta la vita adesso quando hanno visto che il settore era naturalmente perché eravamo tutti chiusi in casa e facevamo solo tutti la spesa al supermercato il settore stava implodendo allora cosa ha detto Burger King ha detto comprate da McDonald's e comprate da KFC da Subway da Domino's da Pizza Hut da Five Guys da Gregg da Taco Bell da Papa Jones li ho provati tutti bellissimo questo perché? perché sono lo stesso settore se noi a un certo punto decidessimo di non bere più probabilmente il tuo amico barman che fa il Negroni alpino vada agli altri e dice facciamo una pubblicità tutti insieme fare in modo che si beva invece i treni e le automobili sono entrambi entrati in crisi ma siccome soddisfano due bisogni diversi non è che si sono messi insieme a dire viaggiate di più ci sono due viaggi diversi quindi non potevano questi sono prodotti sostituti uno può sostituire l'altro come si capisce cos'è un sostituto un sostituto è qualcosa che può fare lo stesso lavoro quindi voi sapete tutti la frase di Levitt la gente non vuole un trappo non vuole un buco ma guardate che c'è 3M che fa l'adesivo e non deve neanche fare il foro è un prodotto sostituto e chiaramente qual è l'importanza dei prodotti sostituti per noi che siamo nell'industria sostituibile cioè l'altra nel confronto del massimo prezzo possibile quando voi dovete decidere tra il treno la macchina e l'auto cosa fate? guardate il prezzo il prezzo determina un cap oltre il quale il sostituto può essere troppo forte cosa bisogna fare per guardare i sostituti? bisogna guardare i trend di price performance della nostra industria noi diamo una performance al cliente e gli chiediamo un prezzo i prodotti sostituti che performance e che prezzo gli danno? pensate cosa è successo alle notizie noi pagavamo un euro un euro e mezzo 600 lire 1000 lire quando c'era la lira per avere un pacchetto di carta dove c'era un buon agglomerato di notizie c'era la prima pagina c'era politica notizie internazionali la cronaca nera gli interni l'economia lo sport la cronaca locale i cinema cosa c'è in televisione i necrologi i commerci cioè gli annunci di lavoro vendo le case tutto insieme ne compravamo e costava un euro un euro e mezzo più cose c'erano dentro aggregate lo vedremo poi nel bundle più noi eravamo disposti a pagare un pochettino di più e lì sono nati i settimanali Primo Espresso Panorama di Repubblica non mi ricordo come si chiama quello del Corriere l'inserto donna del Corriere chi è che legge l'inserto donna del Corriere? nessuno l'ho sempre detto a mia moglie che è una roba da vecchie però il Corriere ha un inserto donna cosa succede che ogni giornale ha cominciato a mettere delle cose poi sono arrivati questi qua di Google News e hanno detto sai che c'è di nuovo perché tutto insieme vai e cerchi quello che vuoi questo ha fatto sì che il mondo dell'editoria cartacea sostanzialmente è sparito e quello dell'editoria digitale è cresciuto se voi guardate negli ultimi anni è affascinante il mondo che era iperintegrato le rotative la carta la distribuzione del giornale la consegna l'impaginazione la scrittura del giornalista la decisione dell'impaginazione l'arrivo la distribuzione notturna nell'edicole la vendita dall'edicole il reso dall'edicola quindi tutto quel mondo fisico sta pian piano sparendo i giornali stanno mettendo insieme le rotative perché non conviene più e a un certo punto ci sarà un limite oltre il quale imploderà io quando ho iniziato a scrivere per il 24 ore una decina di anni fa dovevo mandare l'articolo che doveva essere pubblicato il giorno dopo entro le 11 il giornale chiudeva perché poi devono leggertelo e impaginarlo il giornale chiudeva a mezzanotte e alle 2 usciva il cartaceo quindi loro in due ore stampavano la prima edizione quando scrivo sulla stampa la stampa te lo chiede alle 10 e mezza perché a mezzanotte esce la prima edizione della stampa adesso adesso la mia vita è triste non esco più la sera ma quando uscivo la sera a mezzanotte usciva il giornale del giorno dopo cioè tu andavi a dormire e compravi il giornale da quelli che vendevano sulla strada adesso credo che non lo facciano più perché chi lo comprerà mai più non lo fanno ancora una volta c'erano le prime le prime 10.000 copie le prime 5.000 copie venivano vendute subito cioè c'era uno con la bicicletta e tanti con la bicicletta che andavano si stampava in via Pastrengo la stampa prendevano 100 copie andavano in piazza Castello le vendevano usciva a mezzanotte per cui a mezzanotte un quarto c'erano le stampe calde del giornale oggi cosa sta succedendo il sole vuole l'articolo alle 9.30 perché non lo stampano più a Milano lo stampano in centro Italia e c'è una sola stamperia per tutta Italia adesso mi sta cominciando a dire eh forse sarà prima perché abbiamo messo la stamperia insieme a un altro giornale un altro quotidiano quindi dobbiamo iniziare ancora prima se no non riusciamo a stampare tutte le copie dei due quotidiani cosa sta succedendo che il mondo della carta sta sparendo a un certo punto imploderà che bisognerà pubblicare il giornale alle 4 del pomeriggio sempre una roba che esce poi il mattino dopo e nessuno lo leggerà meno di adesso e cosa ha fatto Google? ha inventato l'iniziativa per il giornalismo ha capito che in realtà Google News non è un sostituto del quotidiano è un distributore del quotidiano e quindi si è messo lì a dire cerchiamo quei produttori di notizia i giornalisti e gli editori di fare insieme il futuro del giornalismo e la cosa affascinante è coloro che sembrano essere quelli che vogliono uccidere l'industria dell'editoria in realtà sono coloro che stanno cercando di alzare la qualità di quell'industria perché non sono un sostituto anche se voi chiedete a tutti gli editori e li percepiscono come un sostituto questo se volete ve lo ripubblico su internet è un articolo scritto un po' di anni fa che vi spiega la differenza tra industria e bisogno cioè abbiamo bisogno di informazione sì voi leggete siete più aggiornati sulle informazioni di quanto era la mia generazione io compravo la stampa neanche tutti i giorni leggevo perché mi obbligava mia madre la politica internazionale se no a cena non mangiavo se non si può discutere di politica internazionale e poi leggevo l'articolo del toro e basta se dovevo uscire al cinema con la fidanzata guardavo cosa c'era al cinema una volta i film erano sul giornale avete presente my movies ecco una volta era dentro il giornale per cui non sapevo niente di quello che succedeva voi soprattutto mi dicono quelli che fanno le ricerche su come voi vi informate soprattutto sulle cose di cui avete un interesse o su cui almeno facebook pensa che voi abbiate un interesse vi mette i richiami su instagram e voi pigiate e leggete molte più informazioni avete molto più coscienza di quello che succede nel mondo o almeno potete averla di quella che avevamo noi che infatti passavamo il tempo a farci gli spinelli a fare i ribelli verso qualcosa che non sapevamo cos'era la vostra generazione è iper informata da quel punto di vista c'è molto bisogno di informazione e il fatto che voi anche se da instagram schiacciate quella roba lì avete mai provato welcome to favelas welcome to favelas è un quotidiano gli effetti se voi lo guardate nella sua forma è un contenitore di notizie però l'industria il settore che sta soddisfacendo quel bisogno che storicamente era l'editoria non è più l'editoria o meglio non è più l'editoria come chi si occupa dell'editoria pensava dovesse essere ecco perché diciamo per rispondere alla domanda all'inizio i settori valgono ancora sì valgono ancora ma è molto complicata la connessione tra il bisogno e come lo risolvi è più fluida quella connessione bene ci vediamo domani dove faremo invece visto che abbiamo tre ore una bella appognata di robe noiose vedremo il modello delle cinque forze non ve ne andate che ho il colpo di scena vedremo tutte queste slide qui noiosissime per poi arrivare a questa cosa qua che sarà il modulo che voi avete già disponibile potrete usare per Sandlands cioè per ognuna delle variabili potrete descrivere come è fatto Sandlands ci vediamo domani alle quattro quattro e un quarto non mi go più siate puntuali